ma che sarebbe un po' di pesa ma che sarebbe un'altra ce l'ho preso un po' di pesa, è bello butta la carne non entrare in città con la carne, credimi vabbè l'hai anche poca, otto pezzi di belle, non so se basta se si, qualcosa si fa, un po' così ah ragazze, the walking dead l'ho mancato, si sta avvicinando sempre di più oh 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 è morto? ma c'è quello big john ehi, questa aveva pure colpi eh si vai grande ma non abbiamo un'arma attenti raga siete circondati eh attenti ce la vede dietro eh oh cazzo ne arrivano altri, ne arrivano altri, via via ne arrivano altri eh, via vedo una casa ritiratevi metti ne vero bloccando giratevi guastati ora quanti sono arrivano tanti madre mia questo salvataggio mi sta dicendo malissimo a me al momento è un po sfortuna ragazzi verranno tempi migliori la pace eterna sono i cani credimi sono i cani ho detto dobbiamo evitarli veramente dobbiamo evitarli veramente gli effetti arrivano quando si aggruppano vedi quanti sono quando si iniziano a gruppare si zombie iniziano a venire i cani di scappartano proprio devi evitare li chiamano proprio li chiamano io lo sapevo ma sentivo che ne veniva uno ne stanno arrivando un paio veramente bene stanno arrivando un casino qui che l'ho presa al limite ne abbiamo un'altra qui mamma mia quanti sono un altro cane un altro cane no dove arriva l'ho visto dove sei l'hai preso eliminato scappate stanno arrivando un casino qua ma se non si capisce un cazzo è meglio il tuo un man si guarda quanti sono guarda quanti sono stanno arrivando un casino stanno arrivando maledizione ritiratevi un po ritiratevi un po attenti la signorina si fermi cazzo attenti vai l'ho fatto e mo i cani la suca no? no credimi 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 no no credimi credimi è peggio dell'arco sul serio io non ci proverei neanche contro i cani con la pistola sul serio so benissimo che muori no dove avanzi chi è quello che avanza lì? no io eh attento io entro nella prima casa sul serio per con cane no no ci muoio via via devo entrare magari trovo un'arma anch'io ciao ciao oh cio cane qua no dè no l'ho detto ce n'ete in cantina sono in cantina io credimi qua è pieno in realtà è una brutta cosa in città a sti livelli poi questa difficoltà anche mamma mia sono due sicuro eh li senti? voi dove siete? ah tu sai sicuri si macellano non usciamo senza eliminarli eh quello è sicuro sono i cani eh? ti hanno ucciso solo i cani eh? yeah tre volte no i cani ammazza ne gli c'è una cassaforte però no eh culo no che c'è uno ti ne pare c'è un'dre forse eh mhm ma dire c'è un'arma dentro va no vè no vè aspetta sono state qua vado un attimo mi affaccio con la pistola muore eh ma voglio vedere se sta qua dentro se sta qua mi butto di sotto ve lo dito quindi faccio io la lampada ma non c'è cioè sta qua fuori dobbiamo cambiare casa piano piano io sto cercando di uscire piano piano deve essere nel retro della casa sicuro là dietro sta quel bastardo ci scomento vado un'altra casa ma dentro lì dai dai veloce come la situation qui tranquillo andiamo a prendere un po di pannocchi allora dai vai l'incudine è già fatta perfetto 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 c'è troppa tranquillità qua non mi piace per niente io dovrei trovare un tavolo da lavoro che sia più vicino uno qua vicino è una bella domanda tavolo da lavoro senza che vado fino al trader ma è più qua verso sud est ma vi vedo in teoria è oltre sta collina ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo penso di sì dove sta non era qui si eccola la vedi io non la vedo lo vedi il segnale della strada qua ma dovrebbe uscire fuori il negozio ma aspetta sicuramente c'è eccolo ecco sicuro c'è qualche cagnaccio devo un'occhiata devo zoomare un po' di più questo arco che posto sembra troppo tranquillo sembra tranquillissimo una la vedo non mi spira per niente fiducia bene una cosa che non va è troppo la cazzo no lo può essere c'è uno zombie io lo vedo e lo vedo attenti cane ho preso no ho preso anche lui no cazzo maledetto cagnaccio mi sembrava e ricominciava questi cani ho visto state stavo vicino lo zaino faccio faccio buccia